Eccoci ritornati in diretta e stamattina a poche ore dalla festa di San Pio da Pietrelcina è davvero un piacere ospitare il sindaco di San Giovanni Rotondo, il professor Michele Crisetti che è arrivato nei nostri studi. Buongiorno e bentrovato sindaco. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora sindaco, partiamo da aspetti un po' più pratici, visto che sono in tanti che ci stanno seguendo e che ovviamente si metteranno tra poche ore in viaggio per San Giovanni Rotondo per partecipare a questo evento che è un po' l'evento simbolo della nostra città la veglia, ecco come viene definita a San Giovanni Rotondo, è davvero un giorno particolarissimo. Allora a te la parola per dettagli tecnici perché ci sono anche dei lavori in corso qui a San Giovanni dunque è una città che è un po' in movimento e dunque la viabilità è anche diversa rispetto al solito dunque lascio a te la parola per spiegare un po' ai nostri telespettatori come arrivare al meglio a San Giovanni Rotondo. Grazie per l'opportunità che mi date anche attraverso la vostra televisione di illustrare almeno quali sono in parte le difficoltà che si riscontrano quest'anno e come è stata organizzata la città in modo tale da far arrivare i pellegrini nel miglior modo possibile e da rendere tutta la veglia la più accogliente, tranquilla possibile perché la veglia non dimentichiamo mai, è comunque un momento di spiritualità in cui i pellegrini devono venire a San Giovanni Rotondo e stare bene essenzialmente come sicuramente i cittadini di San Giovanni Rotondo sanno forse un po' meno chi viene da fuori quest'anno è un po' più complessa la situazione dal punto di vista della viabilità e per questo insieme anche ad altri organi sovraordinati la questura piuttosto che la prefettura abbiamo concordato una serie di interventi da fare per creare meno fastidio possibile e quindi siccome sulla cosiddetta circonvallazione ci sono dei lavori importanti che la città attende da anni e che finalmente si stanno facendo ma non permettono la fruizione ordinaria di quella importante arteria per cui ho pensato per diminuire, ripeto in accordo con questi organi per diminuire l'impatto dell'arrivo di centinaia di pullman qui a San Giovanni Rotondo ho pensato innanzitutto di chiudere le scuole domani e quindi evitare che centinaia, forse migliaia di famiglie si spostino con l'automobile per accompagnare i figli come pure ho differito il mercato settimanale del venerdì ad altra data da concordare con le associazioni degli ambulanti perché anche lì abbiamo circa 170 ambulanti che arrivano la mattina presto e vanno via verso le 2 in momenti anche critici piuttosto per il traffico questo dovrebbe decongestionare le strade atteso che appunto quell'arteria importante, la circonvallazione si potrà usare parzialmente perché anche qui abbiamo previsto che per l'ingresso di coloro che vengono da Foggia dopo c'è un distributore di benzina sulla sinistra abbiamo aperto un'arteria soltanto in senso unico per far andare sulla circonvallazione nel tratto non interessato dai lavori e quindi parzialmente fruibile anche la circonvallazione per il resto ci sono i cartelli che indicano dove andare io penso che la cosa si farà in maniera ordinata invito tutti quanti, soprattutto i cittadini di San Giovanni Rotondo anche per rispetto di coloro che vengono da fuori a utilizzare il meno possibile o soltanto per lo stretto necessario diciamo le automobili, i loro mezzi privati e quindi a servirsi del servizio delle circolari piuttosto che magari fare una bella camminata a piedi ove possibile e quindi abbiamo fatto di tutto perché questo possa avvenire nella maniera migliore possibile la città quindi è pronta ma anche negli altri anni insomma il momento della veglia racchiude anche il meglio delle professionalità della nostra città non lo dico per campanilismo ma per una osservazione oggettiva della realtà dunque assolutamente abbiamo implementato anche recentemente il numero dei vigili urbani addetti alla sicurezza ne abbiamo altri 9 che saranno presenti sul territorio e questo diciamo dovrebbe garantire poi c'è tutto l'apparato della polizia di Stato dei carabinieri per l'ordine pubblico eccetera è una manifestazione importante e tutti questi accorgimenti vanno in un'unica direzione fare in modo che chi arriva qui per pregare abbia la migliore condizione possibile per pregare Ecco sindaco ricordo che lei è anche un docente di diritto quindi mi sento di dover parlare con lei di legalità poco fa abbiamo trattato questo tema proprio ricordando i 30 anni della morte di padre Pino Puglisi che perché si fosse collegato ora è stato ucciso proprio da mano mafiosa noi viviamo in una realtà provinciale, territoriale un po' complessa perché il degrado, la criminalità si fanno sentire ogni giorno e quindi siamo dinanzi ad una emergenza sociale che in qualche modo va affrontata, va arginata e quindi io le chiedo in che modo la comunità di ogni città quella di San Giovanni ma poi in fondo di tutte le piccole realtà del territorio può operare per arginare questo problema Sì, grazie intanto a fianco a Don Pino Puglisi vorrei ricordare che oggi è anche l'anniversario della morte di Rosario Livatino, il giudice ragazzino che sono due esempi di rispetto della legalità fino al sacrificio estremo e quel sacrificio è stato importante perché poi pone delle... non dovremmo mai aver bisogno di sacrifici di vite umane per dimostrare la legalità e fin quando questo avviene vuol dire che ancora non siamo a posto sento di dire proprio in questo modo io come cerco di trasferire ai miei alunni tutti i giorni io credo che il rispetto della legalità oltre ad essere un parole fondamentale per le sane relazioni tra di noi innanzitutto debba essere declinato nelle azioni quotidiane abbiamo bisogno di eroi spero che la società non abbia più bisogno di eroi per affermare questo principio però la legalità si conquista con i piccoli gesti quotidiani sono quelle le cose che secondo me educano nella maniera più giusta possibile e preparandoci quindi anche rispetto a determinati ruoli vi dico della mia esperienza sono sottoposto tutti i giorni alla domanda stiamo rispettando la legalità qual è il confine tra la legalità e l'illegalità l'illecito si tratta di un equilibrio che devi avere perché fondato sulla legalità qualsiasi azione anche la vostra quella di giornalisti di una categoria importante per la nostra società ci dobbiamo chiedere ogni giorno se la nostra azione è funzionale non soltanto al formale rispetto delle leggi ma anche a comportamenti che anche lontanamente possono far pensare che c'è qualcosa di losco nell'azione che facciamo e lo dico anche e soprattutto alla parte politica che ha un ruolo importante in qualsiasi comunità e che oltre a non commettere illeciti deve dare l'idea che si combatte addirittura l'illegalità non addirittura si deve combattere l'illegalità e questo si fa quotidianamente con gli atteggiamenti consoni a che questo messaggio passi altrimenti sì ci può essere ed è fondamentale il rispetto formale delle leggi però anche far capire a chi volesse in qualche modo tentare il politico di turno piuttosto che il funzionario piuttosto che il responsabile di una struttura importante che a quella persona non ti devi avvicinare perché già ti ha messo un muro tra legalità e illegalità e quindi fare da deterrente anche con gli atteggiamenti quotidiani e così la figura del sindaco è una figura che è colma di responsabilità un sindaco poi che è docente penso che si aggiunga un ulteriore surplus a questa responsabilità mi piace molto l'immagine l'ho letta da qualche parte che in Giappone ci si inchina dinanzi all'imperatore e agli insegnanti è un'immagine molto bella che fa riflettere perché nelle mani degli insegnanti sono le nuove generazioni quello che vorrei chiederti sindaco è queste nuove generazioni come vivono il tema della legalità e il tema della politica perché tante volte politica e legalità dovrebbero essere insieme ma troppe volte sono distinte tra loro sono quasi in contrapposizione allora sto no anzi ho finito di leggere un ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky famoso costituzionalista che è dal titolo La lezione e lui si medesimo in qualità di professore universitario ma è una cosa che si può estendere diciamo anche ad altri ambienti educativi di come organizzare che cos'è una lezione una lezione soprattutto un ambiente in cui si apprende serenamente con lo scambio tra docenti non è soltanto e l'aula non è quattro mura che ci sono ma è una comunità che cammina insieme attraverso certo il proprio ruolo ma con l'interazione io credo che se parlo adesso da docente ma anche da posso anche da sindaco se la trasmissione di questi valori è unidirezionale difficilmente difficilmente si raggiungono obiettivi pieni diciamo quando invece si crea l'ambiente nel quale operare e in cui si dà fiducia ai ragazzi noi dobbiamo io purtroppo forse non lo so se sono fuori contesto fuori tema io credo che i giovani i più piccoli quelli un po' più grandi meno credo perché maturano e quindi hanno delle loro responsabilità ma in realtà siano innocenti per definizione ma perché è il mondo che abbiamo creato noi per loro cioè loro se lo trovano se noi ci lamentiamo adesso perché faccio un esempio usano il cellulare cellulare gli abbiamo dato noi abbiamo creato noi questo sistema di comunicazione di interazione abbiamo creato noi un sistema per esempio politico che non sempre dà buoni esempi abbiamo creato noi questo mondo loro lo stanno ereditando e quindi in questa idea se partiamo con l'idea che i ragazzi sono colpevoli di quello che ha fatto io diciamo capovolgo il il sistema di valori da da trasmettere loro sono innocenti noi abbiamo una responsabilità altrimenti significherebbe anche essere adulti in maniera strana come i bimbi che quando succede qualcosa danno subito la colpa al fratello all'amico così stiamo non possiamo noi permetterci questo dobbiamo avere la maturità noi grandi diciamo più maturi più responsabili di capire e non trasferire sui giovani è colpa vostra dei giovani poi i giovani effettivamente possono avere comportamenti anche come tutti quanti bisogna intervenire educare e in estrema razio anche reprimere e io da sindaco lo vedo anche su certi fenomeni delle bande giovanili delle piccole gang che ci sono ma quello è un prodotto del nostro mondo quello che abbiamo creato noi in questo ci dobbiamo interrogare per dare cercare a loro soluzioni che non permettano più l'esistenza di determinati fenomeni ed è lo sforzo principale in termini di legalità che si possa fare perché coniuga legalità educazione responsabilità ecco sindaco io voglio un attimo uscire fuori dal ruolo di sindaco e di docente ed entrare un po' in quello di uomo e di padre e quindi le rivolgo questa domanda perché in realtà abbiamo ricordato giorni fa gli 800 anni dalla regola di San Francesco quindi questo sforzo in un certo senso che il santo ha fatto di adattarsi alle regole per poter inseguire un sogno e quindi ecco io da padre cioè da figlia e mi rivolgo a lei da padre quanto è importante coltivare i sogni ma soprattutto i sogni possono esistere senza le regole allora le dico come la penso io nel rapporto con i figli no avendo avuto fortunatamente diciamo questa bella opportunità di avere due figlie credo ma sono assolutamente di parte splendide io dico che con i figli bisogna fare una cosa solo fondamentalmente una cosa bisogna amarli io in questa parola di amore per i figli faccio rientrare un po' tutto perché l'amore vuol dire ascolto l'amore vuol dire anche rimprovero l'amore vuol dire trasmettere quello non soltanto le nostre sicurezze ma anche le nostre incertezze avere un rapporto di amore e quindi di donazione non riesco a trovare altre formule di donazione per i figli è l'esempio educativo più alto che secondo me si possa dare amare come voi sapete immagino che Leonardo sicuramente è innamorato spero che lo sia anch'io grazie a Dio in fondo è donarsi apertamente sinceramente in questo rapporto di donazione verso i figli io credo che ci sia la formula e non aspettarsi che i figli raggiungano determinati obiettivi i sogni di cui parlavi tu sono i loro sogni e noi dobbiamo soltanto accompagnarsi e sapendo anche che i sogni i figli possono anche cambiarle non devono realizzare i nostri sogni io istintivamente mi verrebbe da dire ma fai questa cosa che bello ma devono realizzarsi loro in questa comprensione come conta l'amore l'amore tra due persone si realizza quando ognuno con la propria diciamo con la propria vita realizza il sogno dell'altro e questa è la forma e credo che possa valere anche per i figli allora sindaco grazie per essere stato con noi purtroppo dobbiamo chiudere il nostro spazio perché il tempo corre e buona festa di San Pio a voi al sindaco e per esteso ovviamente a tutta la città di San Giovanni Rotondo ma anche a tutti i devoti di Padre Pio che in questa città vedono un po' una capitale della spiritualità grazie di cuore grazie a voi pubblicità